Prendendo in mano la EOS 40D, la prima cosa che noterai sarà la sua solidità. Il peso di soli 740 grammi permette di avere una fotocamera meglio bilanciata quando si utilizzano obiettivi di particolari dimensioni. Il corpo in lega di magnesio vanta un'impugnatura in gomma e una superficie antiscivolo per il pollice. Posiziona l'interruttore su ON. Apparirà subito il messaggio PULIZIA SENSORE. Ogni volta che la fotocamera viene accesa o spenta, un ciclo di vibrazioni rimuove la polvere dal sensore. I pulsanti di controllo sono posizionati in modo tale da non costringerti ad allontanare lo sguardo dal mirino durante gli scatti. La ghiera delle modalità di scatto consente di selezionare le diverse modalità prescelte. Puoi premere il pulsante di scatto dell'otturatore con l'indice della mano destra. Ruota la ghiera principale per controllare le diverse impostazioni, come per esempio l'apertura e il tempo di scatto. Sopra il display LCD sono posizionati i pulsanti per regolare modalità di lettura e bilanciamento del bianco, messa a fuoco automatica e modalità drive, sensibilità ISO e compensazione dell'esposizione del flash. Il display visualizza le impostazioni di scatto, tra cui la modalità di messa a fuoco automatica, la qualità delle immagini e il livello dell'esposizione. Se stai fotografando in condizioni di scarsa luminosità, utilizza questo pulsante per vedere meglio il display. Se premi a metà il pulsante di scatto dell'otturatore, attivi la messa a fuoco e l'esposizione automatiche. Oppure puoi selezionare la messa a fuoco automatica premendo il pulsante AF ON con il pollice. La funzionalità di questo pulsante può essere modificata dal menu delle funzioni personalizzabili. Il pulsante Blocco AE FE viene usato per bloccare l'esposizione in un punto diverso da quello di messa a fuoco. Il pulsante Selezione del punto AF permette di scegliere manualmente un punto di messa a fuoco automatica. Premi completamente il pulsante di scatto dell'otturatore per catturare la tua immagine. Premi il pulsante MENU e nel display della fotocamera visualizzerai le diverse impostazioni, come la qualità delle immagini, il setup della fotocamera e le funzioni personalizzabili. In alto a destra del display LCD è presente un multicontroller. Tra le sue diverse funzioni consente anche la navigazione rapida attraverso le opzioni del menu. Puoi passare da un'impostazione all'altra anche usando la ghiera di controllo rapido o quella principale. Premi il pulsante Set per selezionare un'opzione. Sotto il display LCD sono presenti quattro pulsanti destinati alla gestione delle immagini catturate. Premi il pulsante Riproduzione per rivedere le immagini. Il pulsante Cancella, invece, permette di eliminare un'immagine. Con il pulsante Jump puoi far scorrere le immagini suddivise in gruppi di 10 o 100 o ordinate per data di scatto. Utilizza il pulsante Info per visualizzare le diverse informazioni sullo scatto, tra cui il numero del file, le impostazioni dello scatto e gli histogrammi. Il pulsante Picture Style, stile foto, dà accesso ai parametri preimpostati di elaborazione delle immagini, come se passassi da un tipo di pellicola a un altro.